Io ogni volta che mi trovo a parlare di calcio sembra che voglio fare quello che non dia valore all'aspetto tattico. Non è vero, cioè io do molto valore, ma tatticamente io al bar a casa mia, lo sapete quanta gente c'era che mi incartava? Cioè gli innovativi veri del calcio, quelli che fanno qualcosa di diverso. Michels, partendo, chi era? Sacchi, chi era? Giocava a Fusignano. Sarri, dove ha giocato? Mourinho, dove ha giocato? Ma vi porto i fascetti, gli ulivieri, quelli della generazione degli anni Ottanta, i Galeone, ci hanno giocato, ci sono guaglioli, però questi hanno fatto qualcosa di diverso. Quando si dice questa squadra è scesa in campo con l'atteggiamento giusto, che va sull'avversario, che è pronta a ripartire, che è attenta a ogni situazione, poi li prendi e li fai lo stesso. L'atteggiamento non è che dici se io ho l'atteggiamento giusto le vinco tutte, ne perdi meno? Sicuro.